Cari lettori la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo thriller su un uomo, noto per essere un abile pianificatore di colpi, appena uscito di prigione e coinvolto in una rischiosa rapina. Gli amanti del genere giallo e dell'azione troveranno molto da apprezzare in questa storia di rapine e colpi audaci. La trama del libro La pietra che scotta dello scrittore Donald Edwin Edmund Westlake, pubblicato dalla casa editrice Time Crime Fanucci, è la seguente. Fresco di prigione, Dortmunder viene coinvolto in una rapina che potrebbe scatenare una guerra. Quando esce dal carcere con 10 dollari, un biglietto del treno e nient'altro, ha solo un buon nome e un'ottima reputazione, nessuno pianifica un colpo meglio di Dortmunder. Il suo amico Kelp lo va a prendere su una Cadillac rubata e, durante il tragitto, gli racconta la storia di uno smeraldo dal valore di 500.000 dollari che non devono far altro che rubare. Dortmunder non esita un istante. Lo smeraldo è il gioiello della corona di un'ex colonia britannica, a cui è stata recentemente concessa l'indipendenza e divisa in due nazioni, Talabu e Akinzi. Akinzi ha la pietra. A Talabu la rivolgono e il loro rappresentante alle Nazioni Unite offre un'ottima ricompensa a chi ne entrerà in possesso. Per Dortmunder e Kelp non sarà una semplice rapina, troppi interessi si avvicendano intorno al gioiello, ma sarà un'occasione perfetta per dimostrare le loro qualità come professionisti del crimine. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.